Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Ulisse Craft, io sono Ulisse e siamo tornati Sì, non so se ho tipo la mia voce originale però è pieno con la tarocca, vabbè comunque E allora, è uscita la Thermal Dynamics, voi direte Ulisse che diamine la Thermal Dynamics è tanta roba ragazzi Noi la scriviamo qui, Thermal Dynamics con la Y, ok E guardate cosa esce Tanta roba ragazzi, tanta di quella roba, soprattutto questa roba, questa è fantastica Non so come si possono craftare ma voglio craftare il più presto possibile E allora, io quasi quasi vorrei capire quanta energia passa in mezzo a sto coso Nel senso, cioè, quanta energia faccia passare sto coso massimo E potrei continuare come si fa in qualche modo, tipo una cella No, è una cella però massimo 10.000 E vai, proviamo, vediamo un po', cioè, infine si può comunque testare e provare cose nuove E visto che ci siamo, volevo un po' vedere come si faceva Quindi, ehm, abbiamo le item duct, fluid duct e, ehm, anche il nostro redstone flux duct E, quindi, redstone, ah no, non ci siamo flux, per esempio Vediamo un po', si servirà precisamente, eh, questo Mi vede quanto porta 32 milioni, 32.000 RF Che, essenzialmente sono giusti, sono come il nostro cavo, giustamente Non ci sono i conduit, eh, gialli, giusto? No, 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 questi sono 20.000 Quelli sono 32.000 Porca vacca Ah, forse, la cosa che voglio cambiare, ragazzi, è farmi dei fluid act Perché i fluid act? Perché questi sono molti più fighi Questi, eh, dove stanno? Eh, trasferiscono fluidi Però, fino a un 2000 No, cos'è? Cos'è? Perchè? Eh, non lo so, comunque La trasferiscono abbastanza roba E, eh, coppe e riardner Io andrei per riardner, sinceramente Per cartelli abbastanza facilmente Ne facciamo un paio Vediamo un po', la roba si passa velocemente Oppure no Però, andiamo in bat mode Vediamo un po' com'è Vediamo un po', vediamo, vediamo Ok Allora, l'unico problema che c'è E sto problema grave Di farmi servo Vabbè Quello non dovrebbe essere un problema grave A meno all'inizio Ok, guardate qua Perfetto Così si apre Oddio, non si aprono più Lol Dovano farmi servo per forza, quindi Ok, facciamoci un servo Basilare E ne hanno fatti parecchi Ne hanno fatti Extraction rate Oddio 0,5 seconda Voglio farmi questo Voglio farmi Lol Si craftano in un modo facilissimo Si craftano Sono perfetti Ok Proviamo un attimo a vedere com'è Sto coso Vediamo Ok No Figata ragazzi E in posto di redstone mi serve Ok Posso levarlo Perfetto Ottimo Guardate qua lo steam che passa No Bellissimo ragazzi Inizio a fare un paio di update Per questa cosa Mi sa che Sì sì Dovrò mettere questi A posto di questi piccolini Questi fanno passare davvero pochissimo liquido Mentre i nostri bellissimi fluidi Dovrebbero essere perfetti Ok Allora ho una bellissima idea La mia voce è tornata a capo normale Merda Vabbè dettagli Allora ho una bella idea E in teoria potrei fare così Ehm Diamo un po' Quanto spazio abbiamo Naturalmente qua Ce la facciamo Ce la facciamo Facciamoci un'altra Un'altra cella Se ce l'abbiamo già Ce l'abbiamo già Perfetto Quindi diciamo che Un fair rose Ok Più Oddio Dov'è la mia energia Come mai la mia energia non arriva Oddio Ah a proposito Stavo facendo un paio di test Per vedere un attimo Quanta energia facciamo passare Quindi possiamo anche buttarla Giustamente E Devo provare però Giustamente quella cella mi serviva Perché dovevo provare anche A vedere quanta energia davvero passava Attraverso quel tubo gigante nuovo Da thermal E potrebbe essere Cosa di interessante Però non capisco perché L'energia non arriva Vediamo un po' Ah non c'è più Qua energia E qua dovrei passare Cosa diamine Che problemi c'hai Oh Sì sì so perché So perché Perché sotto ho levato dei cavi Di qui Faccio vedere Faccio vedere Perché Giustamente L'energia dovrebbe andare Non da questo lato Ma da questo lato E arriva alle me E giustamente Ho staccato dei fili qua Dice Ehi la mia energia dove è finita Eccola qua L'ho portata Perfetto Ok Possiamo tornare su In qualche modo A qualche parte Vediamo un po' Scopriamo assieme da dove andare Ok E allora Guardate me ne dà Vediamo Come si craftano veloci I nostri peccosi Perfetto Emozionante Figo Comunque sono due Non tre Giustamente Quindi mi avanzerà qualcosa Sì sì perché È vero Erano due ferri E un pezzo di fior rose Infatti avanzano Dieci ferro Giustamente Ok Vedete che ve lo rifacciamo Ok Ehi Perfetto Non so perché ma oggi Laggeggio un po' più del solito Ovviamente per il fatto che Comunque Alla fin fine È iniziato un po' più pesante Il modpack E a proposito Avrebbe succeduto Anche sul Technic Launch Quindi mi raccomando Fate attenzione Fate un update Che se no Non avete i nostri bellissimi Conduit Perfetto Ok Posso farmi un po' di Fluidact adesso Vediamo un po' Fluidact Fluidact Quelli standard E Non faccio quelli opacchi Perché quelli opacchi Non mi servono a nulla Quindi meglio questi Ok 52 Va benissimo E Iniziamo a mettere la roba Una cosa interessante E anche figa Del nuovo update Ma è in factory Anche Giusto ci sia Poggia Pioggia E che hanno diminuito I tick Cioè hanno aumentato I tick A 15 Quindi ci succede adesso Che rompe un blocco Al secondo Rispetto a 4 Che erano prima Ed è una cosa Abbastanza brutta O 3 o 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 Vedo che ci siamo ragazzi Che voglio energia infinita Per il momento Voglio farmi Un export Ok Ce l'abbiamo Prendiamo un bel po' di cable Se ce li abbiamo E quelli più o meno ce li abbiamo Ma manco per il cavolo Allora Mi serve Quarzo No flux Precisamente Ok flux Beh su cipuri Va a fa nulla Ok Quarzo Ok Perfetto Facciamo in questo modo E abbiamo Un paio di questi Perfetto Cosa facciamo Andiamo di qui Qui sotto tipo Dov'è Oh Ok qui Dovrebbe esserci Da questa parte Un nostro piccolo amico Noi facciamo così Facciamo In questo modo E portiamolo Vicino All'entrata Ok Dov'è Qua Giusto Access point Sì Ok Facciamo quindi In questo modo Ok E Così Vediamo un po' Dove possiamo farlo arrivare Da questa parte No No Non così basso Che sennò poi Abbiamo problemi Vari Ok Vediamo anche quel cavo E Allora Facciamo in questo modo Facciamo così Così E saliamo E di qua Facciamo in questo modo Perfetto Ok Allora Così dovrebbe andare bene Ok Allora Adesso facciamo quindi In questo modo Io e l'orum E in teoria dovrebbe iniziare Ad entrare l'orum Però dobbiamo fare in modo Che Ci esca Anche Il nostro Chain Ora non so Se l'access point Mi permette di fare Arrivare la roba Oppure No Dovrebbe andar bene In teoria Perché non arriva la roba Export E beh Dovrebbe Si giusto Exporta qui dentro Il dispositivo Deve funzionare perfettamente Però Ah giustamente Vedete Mette uno Lo sta già attivando Ok Si Ne mette uno alla volta E quindi giustamente Arriva qui Ora appena sarà pieno Non dovrebbe avere problemi Ok E io voglio però che Io acciaccio Di uscire sta roba Ehm Ho un'idea In teoria Sapete come potrei fare Potrei fare In questo modo Rompere questo Rompere questo Ok E E Fare Così Ok Uno E due Opla Così risparmio spazio Però posso fare da questo lato Anche l'ingresso Quindi adesso Andiamo un attimo Sul nostro controller Che è questo qua Quale controller Questo? Si Perché non vai Ma hai detto Ok Eccolo qua Controller No Non va bene sul lato Non va bene Merda Non va bene Potremmo fare In questo modo Si Facciamo in questo modo Ok Allora l'unico modo Era fare due access port Infatti Uno di qui E uno dall'altra parte E In teoria Posso fare così E questo di qui Perfetto Uno Due E faccio Di qui Mi prendi Questo Di qui Mi dai questo Vediamo un po' di giusto Ok qua E qui invece Devono portare via Questo Vediamo un po' E non posso manco farlo Dobbiamo farlo aspettare Che finisca Di craftarmelo Va bene Allora ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Nel frattempo Nel frattempo il nostro reattore Funziona alla perfezione Produce la bellezza di 3,05 rf per tic Kilo rf per tic Ed è bellissimo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi